buongiorno a tutti amici tecno viaggio oggi facciamo un esperimento vediamo un nuovo incarico che abbiamo preso con la nostra macchina fotografica 360 ricco teta vediamo un po se vi piace questa applicazione vediamo questa casa stiamo entrando nell'appartamento un po se eccoci qua, date un giudizio se vi piace la casa e l'applicazione buona giornata a tutti